Ma che la vita abbia bisogno del servizio della storia deve essere compreso altrettanto chiaramente quanto la proposizione che sarà più tardi da dimostrare, secondo cui un eccesso di storia danneggia l'essere vivente. In tre riguardi al vivente occorre la storia. Essa gli occorre in quanto è attivo e ha aspirazioni, in quanto preserva e venera, in quanto soffre e ha bisogno di liberazione. A questi tre rapporti corrispondono tre specie di storia, in quanto sia permesso distinguere una specie di storia monumentale, una specie antiquaria e una specie critica. La storia occorre innanzitutto all'attivo e al potente, a colui che combatte una grande battaglia, che ha bisogno di modelli, maestri e consolatori, e che non può trovarli fra i suoi compagni e nel presente. Così, essa occorreva a Schiller. Il nostro tempo è infatti così cattivo, dice Goethe, che nella vita umana, che lo attornia, il poeta non incontra più nessuna natura utilizzabile. Con riguardo all'attivo, Polibio chiama, per esempio, la storia politica la vera preparazione al governo di uno Stato. E l'ottima maestra, che col ricordo delle altrui sventure ci ammonisce a sopportare con fermezza i mutamenti di fortuna. Chi ha imparato a riconoscere in ciò il senso della storia, deve essere infastidito nel vedere viaggiatori curiosi o meticolosi micrologi arrampicarsi sulle piramidi dei grandi eventi del passato. Laddove egli trova incitamenti a imitare e a far meglio, non desidera incontrare l'ozioso, che desideroso di distrazioni o di sensazioni, gironzola come fra i tesori artistici accumulati in una galleria. È per non scoraggiarsi e sentir nausea in mezzo agli oziosi deboli e senza speranze, in mezzo a compagni in apparenza attivi, ma in verità soltanto eccitati e gesticolanti, che l'attivo si guarda indietro e interrompe la corsa verso la sua meta, per prendere respiro. Ma la sua meta è una qualche felicità, forse non la sua propria, spesso quella di un popolo o quella dell'umanità intera. Egli fugge dalla rassegnazione e usa la storia come mezzo contro la rassegnazione. Per lo più non lo attende nessuna ricompensa, se non la gloria, cioè il diritto a un posto d'onore nel Tempio della Storia, dove egli stesso potrà essere maestro, consolatore e ammonitore per i posteri. Già che il suo comandamento suona, ciò che una volta poté estendere oltre e adempiere in modo più bello l'idea uomo, deve anche esistere in eterno, per poter fare ciò in eterno. Che i grandi momenti nella lotta degli individui formino una catena, che attraverso essi si formi lungo i millenni la cresta montuosa dell'umanità, che per me le vette di tali momenti da lungo tempo trascorsi siano ancora vive, chiare e grandi, è questo il pensiero fondamentale di una fede nell'umanità che si esprime nell'esigenza di una storia monumentale. Ma proprio per questa esigenza, che il grande debba essere eterno, si accende la più terribile lotta. Ogni altra cosa che vive grida infatti il suo no. Il monumentale non deve sorgere, è questa la parola d'ordine contraria. La muffita abitudine, ciò che è piccolo e basso, riempiendo tutti gli angoli del mondo, vaporando come pesante aria terrestre intorno a tutto ciò che è grande, si getta ostacolando, ingannando, smorzando e soffocando attraverso la strada che la grandezza deve percorrere per giungere all'immortalità. Ma questa strada passa attraverso cervelli umani, attraverso i cervelli di animali impauriti e dalla vita corta, che si trovano sempre di nuovo davanti alle stesse necessità e che respingono da sé, a fatica, per un piccolo tratto di tempo, la rovina. Già che vogliono prima ad ogni altra cosa solo questo, vivere a ogni costo. Chi potrebbe supporre in loro quella difficile corsa con la fiaccola della storia monumentale, mediante la quale soltanto può sopravvivere ciò che è grande? E tuttavia, sempre di nuovo, si destano alcuni che, guardando alla grandezza passata e rafforzati dalla contemplazione di essa, si sentono pieni di felicità, come se la vita umana fosse una cosa magnifica, e come se addirittura il più bel frutto di questa amara pianta consistesse nel sapere che una volta qualcuno passò attraverso questa esistenza con orgoglio e forza, un altro con profondità, un terzo con misericordia e carità. Tutti comunque lasciando dietro di sé una dottrina, secondo cui vive nel modo più bello colui che non dà peso all'esistenza. Se l'uomo volgare prende questa spanna di tempo in modo così melanconicamente serio e avido, quelli seppero giungere sulla loro via verso l'immortalità e la storia monumentale a un riso olimpico, o perlomeno a un sublime scherno. Spesso scesero nella tomba con ironia, giacché cosa c'era in loro da sotterrare. Nient'altro che ciò che li aveva sempre oppressi come scoria, lordume, vanità e bestialità, e che era ormai consegnato all'ublio, dopo essere stato a lungo esposto al loro disprezzo. Ma una cosa vivrà, il monogramma della loro più propria essenza, un'opera, un'azione, una rara illuminazione, una creazione, vivrà, perché nessuna posterità potrà farne a meno. In questa trasfiguratissima forma, la gloria è in vero qualcosa di meglio del più prelibato boccone del nostro amor proprio, come Schopenhauer l'ha chiamata, è la fede nell'omogeneità e continuità della grandezza di tutti i tempi, è una protesta contro il mutamento delle stirpi e contro la transitorietà. Incheggiova dunque all'uomo d'oggi la considerazione monumentale del passato, l'occuparsi delle cose classiche e rare delle epoche precedenti. Egli ne deduce che la grandezza, la quale un giorno esistette, fu comunque una volta possibile, e perciò anche sarà possibile un'altra volta. Egli percorre più coraggiosamente la sua strada, poiché ora il dubbio che lo assale nelle ore di debolezza, di volere forse l'impossibile, è spazzato via. Si supponga che qualcuno creda che non ci vorrebbero più di cento uomini produttivi, educati e attivi in un nuovo spirito, per far crollare quella culturalità che è venuta proprio ora di moda in Germania. Come dovrebbe rafforzarlo il constatare che la cultura del Rinascimento si edificò sulle spalle di una siffatta schiera di cento uomini. E tuttavia, per imparare subito dallo stesso esempio ancora qualcosa di nuovo, come sarebbe fluido e fluttuante, come sarebbe inesatto quel paragone. Quanta diversità deve essere al riguardo trascurata se esso vuole avere quell'effetto corroborante, quanto violentemente l'individualità del passato deve essere costretta in una forma generale e smussata in tutti gli angoli acuti e le linee spezzate a favore di una concordanza. In fondo, anzi, ciò che fu possibile una volta potrebbe presentarsi come possibile per la seconda volta, solo se i pitagorici avessero ragione nel credere che, per una medesima costellazione dei corpi celesti, anche sulla Terra si dovessero ripetere le medesime cose fin nei minimi particolari. Sì che quando le stelle avessero una certa posizione reciproca, uno stoico si unirebbe sempre di nuovo con un epicureo per assassinare Cesare e in un'altra posizione Colombo scoprirebbe sempre di nuovo l'America. Solo se la Terra ricominciasse ogni volta la sua commedia dopo il quinto atto, se fosse stabilito che la stessa concatenazione di motivi, lo stesso Deus ex machina, la stessa catastrofe ritornassero a determinati intervalli, allora il potente potrebbe desiderare la storia monumentale secondo una piena, iconica veracità, ossia ogni fatto nella sua particolarità e unicità esattamente formate. Probabilmente dunque non prima che gli astronomi fossero diventati di nuovo astrologi. Fino ad allora la storia monumentale potrà non aver bisogno di quella piena veracità. Sempre avvicinerà, generalizzerà e infine parificherà il dissimile. Sempre attenuerà la diversità dei motivi e delle occasioni per presentare gli effectus a spese delle cause in maniera monumentale, cioè esemplare e degna di imitazione. Sicché con una piccola esagerazione, in quanto prescinde il più possibile dalle cause, la si potrebbe dire una raccolta di effetti in sé, come di avvenimenti che faranno effetto in ogni tempo. Ciò che viene festeggiato nelle feste popolari, nelle ricorrenze religiose o guerresche, è propriamente un tale effetto in sé. È questo che non fa dormire gli ambiziosi, che posa sul cuore degli intraprendenti come un amuleto, non già il connexus veramente storico di cause ed effetti che, conosciuto completamente, dimostrerebbe soltanto che mai più qualcosa di assolutamente uguale potrà risultare nel gioco di dadi del futuro e del caso. Finché l'anima della storiografia consiste nei grandi impulsi che un uomo potente ne trae, finché il passato deve essere descritto come degno di imitazione, imitabile e per la seconda volta possibile, essa è in ogni caso in pericolo di essere alquanto falsata, abbellita nell'interpretazione e in tal modo avvicinata alla libera invenzione. Anzi, ci sono epoche che non sono affatto capaci di distinguere fra un passato monumentale e un'invenzione mitica, perché da uno di questi mondi possono essere tratti esattamente gli stessi impulsi che dall'altro. Se la considerazione monumentale del passato domina sulle altre forme di considerazione, voglio dire sull'antiquaria e sulla critica, lo stesso passato ne soffre danno. Intere, grandi parti di esso vengono dimenticate, spregiate e scorrono via come un grigio in interrotto flusso, mentre emergono come isole solo singoli fatti abbelliti. Nei rari personaggi, che in genere divengono visibili, salta agli occhi un chedi innaturale di meraviglioso, come l'anca d'oro che i discepoli di Pitagora volevano vedere nel loro maestro. La storia monumentale inganna con le analogie. Con seducenti somiglianze, essa eccita il coraggioso alla temerarietà, l'entusiasta al fanatismo, e se si immagina poi questa storia nelle mani e nelle menti degli egoisti dotati e dei ribaldi fanatici, ecco che i regni vengono distrutti, principi assassinati, guerre e rivoluzioni scatenate, e che il numero degli effetti in sé storici, cioè gli effetti senza cause sufficienti, viene di nuovo accresciuto. Questo per ricordare i danni che la storia monumentale può fare tra i potenti e gli attivi, siano poi buoni o cattivi. Ma cosa causerà mai quando di essa si impadroniranno e si serviranno gli impotenti e gli inattivi? Prendiamo l'esempio più semplice e frequente. Si immaginino le nature non artistiche o debolmente artistiche, corazzate e armate dalla storia monumentale dell'arte, contro chi volgeranno ora le loro armi, contro i loro nemici secolari, gli spiriti artistici forti, ossia contro coloro che soli sono capaci di apprendere veracemente da quella storia, vale a dire per la vita e di convertire quanto hanno appreso in una prassi potenziata. A costoro viene sbarrata la via, a costoro viene ottenebrata l'aria quando si danza con idolatria e con grande impegno intorno a un monumento compreso a metà di un qualche grande passato come se si volesse dire guardate è questa l'arte vera e reale cosa vi importa di coloro che divengono e vogliono? In apparenza questo sciame danzante possiede perfino il privilegio del buon gusto colui che crea è infatti sempre svantaggiato rispetto a colui che sta solo a guardare e non pone mano all'opera lui stesso come in tutti i tempi il politicante è più saggio giusto e riflessivo dello statista governante ma se si vuole addirittura trasferire nel campo dell'arte l'uso dei plebisciti e delle maggioranze numeriche e costringere l'artista per così dire a difendersi davanti al foro dei fannulloni estetici ci si può giurare sopra in anticipo che sarà condannato e ciò proprio perché i suoi giudici hanno solennemente proclamato il canone dell'arte monumentale ossia secondo la spiegazione data dell'arte che ha fatto effetto in tutti i tempi non già nonostante questo invece per ogni arte che non è ancora monumentale in quanto arte del presente manca in tali giudici in primo luogo il bisogno in secondo la pura inclinazione e in terzo appunto quella autorità della storia per contro il loro istinto rivela loro che l'arte può essere ammazzata dall'arte il monumentale non deve mai più risorgere e a tale scopo serve proprio ciò che all'autorità del monumentale proviene dal passato così sono conoscitori d'arte perché vorrebbero eliminare l'arte in genere così si atteggiano a medici mentre in fondo hanno mirato all'avvelenamento così educano la loro lingua e il loro gusto per spiegare con la loro raffinatezza perché rifiutino così insistentemente tutto ciò che di nutriente cibo artistico viene loro offerto già che non vogliono che la grandezza nasca il loro strumento sta nel dire guardate il grande esiste già in verità a loro di questa grandezza che esiste già importa tanto poco quanto di quella che sorge ne fornisce testimonianza la loro vita la storia monumentale è l'abito mascherato in cui il loro odio per i potenti e i grandi del loro tempo si spaccia per sazia ammirazione dei potenti e dei grandi dei tempi passati camuffati così rovesciano il vero senso di quella maniera storica di considerare in quello opposto che lo sappiano chiaramente o no agiscono in ogni caso come se il loro motto fosse lasciate che i morti seppelliscano i vivi ciascuna delle tre specie di storia che esistono è nel suo diritto su un solo terreno e in un solo clima su ogni altro terreno cresce come erbaccia distruttiva se l'uomo che vuol creare cose grandi ha in genere bisogno del passato se ne impossessa per mezzo della storia monumentale chi invece ama perseverare nel tradizionale e in ciò che è venerato da gran tempo coltiva il passato come storico antiquario e solo colui al quale una sofferenza presente opprime il petto e che a ogni costo vuol gettar via il peso da sé ha bisogno della storia critica vale a dire di quella che giudica e condanna molto male deriva dal trapiantare sconsideratamente i vegetali il critico senza sofferenza l'antiquario senza pietà il conoscitore della grandezza senza la capacità della grandezza sono tali piante diventate erbacce estraniate al loro terreno naturale e perciò degenerate